Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Maria e oggi farò un'altra nuova cover, oggi farò This Is Me di Camp Rock Spero la conosciate, spero che vi piaccia il video e buona visione, inizio con il video Grazie per la visione 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 Grazie per aver visto il video Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e un commento mi piace qua sotto Potete seguirmi su Facebook, Instagram e Twitter E ci vediamo al prossimo video Ah, mi dimenticavo di salutare una persona, ciao Delia e dicevo il video è terminato e ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi